Quali sono le motivazioni e gli obiettivi dello sciopero? Le motivazioni dello sciopero sono dettate in primis dalle condizioni di sicurezza, perché noi abbiamo un'azienda che unilateralmente ha modificato una procedura in caso di pioggia, mettendo a rischio i lavoratori e non consultando il sindacato e i lavoratori stessi, per cui mettendo a rischio sia la sicurezza sul lavoro sia la mancata retribuzione. E in secondo luogo è la nostra propositività nei confronti dell'azienda di porre una soluzione alternativa al protocollo punitivo. Tra giorni di sciopero, ma qual è l'obiettivo finale? L'obiettivo finale è arrivare a un accordo sindacale che preveda di revisionare questo protocollo unilaterale fatto dall'azienda, di introdurre le auto a Spezia solo in caso di pioggia e di regolamentare tutte quelle che sono queste situazioni borderline che sono venute a creare. Contiamo che noi su Spezia abbiamo due lavoratori che sono categorie protette e che nello stato attuale rischiano veramente tanto. L'azienda come risponde alla vostra mobilitazione? Noi abbiamo cercato il dialogo fino all'ultimo secondo possibile. Lo sciopero è stato dichiarato alle 11.30 di stamattina. L'azienda risponde facendo muro contro muro e tentando di sostituire i lavoratori in sciopero mandando altri lavoratori da Pisa e dalle altre città limitrofe. Per cui la nostra lotta non si fermerà.